abigail è un brutto matchup per birdie sicuramente però io non lo vedo tantissimo soprattutto adesso diciamo eh vabbè quando abigail era fortissimo si vedeva ancora di più forse contro grappler perchè appunto era più grosso dei grappler quindi la gente dice 5 a 2 per ostrac volete che faccia il poll? facciamo il poll mettiamo il poll polloff potrebbe essere un futuro membro c'è polloff che c'è polloff agnelloff e vitelloff come si chiama vitello il vitello non era vitello Vitellof mi pare che ci sia Sì ma non si chiama Vitellof Era eversivo Non era allineato Esatto, non c'era la F Ma c'era qualche altra roba Vitelloso Vitelloso, esatto Vitelloso Però devo dire che Vitellof Ha un fascino diverso Sì ha un altro fascino Beh ragazzi, main event time Chiamate tutti a raccolta Player one side Ostrac, player two side E' il Carlos Con questo beardy Con questo costume un po' Incomprensibile Eh sarebbe Quel poveraccio che si sta rotondando Nella tomba in questo momento Di Freddie Mercury Ah Sì è un cosplay di Freddie Mercury Con la panza Un bravore abbastanza audace Diciamo Oh subito c'è Run Grab Mi piace il color Cacarella Mi piace il toccarlo Interessantissimo Qua la lattina La lattina potrebbe essere molto forte Contro a BK Oh lì Passa attraverso ma Si becca comunque una punish Due pg Merda La perla di Erid In molti lo pensano Anche se non tutti Ok air to air Carlo c'è Carlo lo vedo sul pezzo Stasera Infatti eccolo qua Attivazione Non c'è il gioco Armor break Qua se la prendo Poco dann Ma è la maniera Per dimostrare Interrompe C'è Carlo Bravo Primo round Aggressivo Andiamo si studia Ci te lo studia Buon anti air Difficilissima Tra l'altro Con quel jump strano Che c'ha Abigail Fare anti air Con un tasto così lento Lo trovo Molto complicato Riflesso di Ostrac Perché bisogna essere molto vicini Perché magari Perché il salto è cortissimo Eh si Però poi le sue normal sono lunghe Oh Ha command grabbato la command run C'è command su command Oh qua regisce al cross up per bersaglio Che regola trovo che è una scelta buona contro i wake up dei birdie Perché Qua questa attivazione è stata un po' più felice Carlo on fire Ah in effetti È un bel primo match 1 a 0 Carlo vuole Vuole bloccare i sogni di gloria Di Ostrac Di sfidare Wolf Per il campionato Per la cintura Intanto Intanto Avvisiamo qui C'è il main event in corso Vediamo la lattina Adascia dietro la lattina Antier è bravo a confermarla Ancora lattina che batte la sweep Sweep Su rialzo Qua la run ex Che passa attraverso Alla spalla dei birdie Rialzo Rialzo con run ex Cos'è che mi sono perso Cos'è che mi sono perso Uuuuh Rialzo Poi la command Vediamo adesso Ok Little champ Arrasa con quel pugno medio Di birdie devastante Presa normale Eyyy Una bella run ex Con la command E lo uccide In 2 morte Ah qua non pensavo lo uccidesse Però in effetti Il danno Hai ragione Giulia Hai ragione Hai ragione Hai tu il diritto Di fire On fire Quindi Carlo è Crash counter Bravo a confermarti Ah Carlo ha acceso il no Dai Rimaniamo in tema Abigel Queste run Comunque sarebbe Su un success rate Esagerato Sembrano la risposta Eh qua una sweep Un po' Diciamo Di schiudere Grande Seiji Che ha via secchi E seiji sarebbe Tra l'altro Logical cheers Che è un altro Un altro Dei nostri Commentatori Vediamo Bravo Bravissimo Qua Confermato Nel special E ancora qua Come è successo Prima Carlo Non è on fire Ma è assolutamente On On nos On crack No No L'avverso Ci hanno trovato Ben Non sembra Che risposta Maron Carlo Maron 2 a 0 Ragazzi Abbiamo trovato Forse la Criptonite Di Ostrac Chi lo so Uuuuh Questo succede Non mi dire Che c'è uno switch Ostrac Che switch No Non penso O si prende tempo Che succede Tanto il poll Ha vinto Ostrac Con due voti Ragazzi Queste Sono curioso Cambia VT Ok Cambia VT Cambia VT Una volta Una volta Che mi ricordo Che si è preso Il pugnone Sull'attivazione Perciò Probabilmente Cambiato Penso Che stesse Usando Il 2 Aveva Il 2 Ah ok Quindi torna Un'opzione Familiare Diciamo Perché Nel fratto È stato Anche punito Sull'attivazione Ci sta E quindi forse Per questo Ho visto Che Enjoy time Non ho mai letto Il nome Del V-Trigger Di Bird Mi sono appena Reso conto Che non ho mai letto No sono tutti Time Beardy time Enjoy time Non ricordo Beardy time Non è un time Che puoi Enjoyare Eh in effetti Beardy che si gratta Come sempre Il suo culo Di la chiaffetta Ci vuole Oh Attenzione Ok Combo Dalla Dalla Latta Certo La lattina Dovrebbe usare Perché Combo Dalla banana Sta combando Con tutti i prop Di scena Possibile E immaginabili Qua Da scomma Scimmi Con Jeb Per lo stun Ottimale Con una sola Hit Però strano Che non ha speso Del meter Forse Killare Forse Pensava di Non uccidere Strano Sì sì Poteva essere Per quello Visto che va solo Una hit Prima dello stun Secondo me Avrebbe Un scelto In effetti Ci sarebbe venuto Riuscire Ah ok Il V-Trigger 1 Contro Abigel Fa Un bel Delfino Fa tanta Robba E c'è lo stun Ostrak Attenzione Ostrak Ehm 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 Niente panice Mica la situazione Qua che Sceglie Che Rialza Vediamo Sia Bababababab Ehm 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 Ah Qua bello Questo Perché batte Comunque il setup Sì 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 L'armor Vince In quella situazione Fa in tempo Ad attivarsi L'armor Ostrak Sa tutto Beh Sa tutto Attenzione 2 A1 Ci prende un attimo Carlo Giustamente dice Aspetta un attimo Che stavo facendo bene Che diamine è successo In questo game Oh Qua Un bel tuffo Per iniziare Oh Ok L'armor Stavolta vince Resta fermo Un po' Lo fa saltare Bellantier Bravo Si studiano Adesso Che ne so Io Non ho toccato Niente Fa tutto Steam E vuoi fare pubblicità Eccoti Eccoti Entiger Lo fai apposta Maledetto Approfitti Di sta roba Che si vedono Le notifiche Di Steam Va che spengo tutto Interrompe subito Carlo c'è Si è preso Quell'attimo di tempo Per tornare in partita Mi piace Adesso Sembrano un po' Più calmi Diciamo Forse Finita la fase iniziale Mi piace anche Il cambio stage Finalmente Non vediamo Quella griglia Maledetta Vabbè Fino a che non lagga Certo E' bello vedere Più stage Si si Più Qua doppia sweep La ganni X Beh E' bravo A punirla Subito Appena Finisce Un bel delfinozzi Uh il delfino Dolphin dive Stavolta non ci casca Recupera tutta la sua barra Dello stun Mentre infligge dolore Sta pure per arrivare La super Uh Uh no Ahia peccato Lì quel drop Eh il dolphin dive Stavolta c'è Attenti 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 che arriva La porcata Uh Peccato Quel punish Non era sufficiente Avrebbe dovuto fare Qualcosa di meglio Ma l'armor c'è Qua in effetti Chissà Chissà che avrebbe potuto fare Birt Ragazzi Carlo Si è bevuto uno shot E mezzo di nos Eh il trigger 1 Sembra veramente forte Ragazzi sta Sì sì Molte Ha fatto parecchio danno Con il trigger 1 Finora Anche qua praticamente Cioè non so qua Che avrebbe potuto fare B Marsh Eh la smettiamo Eh la smettiamo Ok Ok balantier Tiene nell'angolo Eh Uh Lì tenta di saltare Ma Qua stiamo Ok qua c'è un metà Niente punish Star rallaggando un po' Pussi boh Stranissimo Non lo saprei Pulo stun Carlo è inquarzato Come una besta Qua vabbè Tenta il risettono Addirittura styling Ma Eh Li passa da tra Anche questa Forse Questa Rummy Ex Cioè 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 Jesus Attenzione Carlo Vicinissimo A Portarsi A Un match Dalla fine La sera Non c'è Agnello E' l'alter ego Di Di Ostrac Agnello Agnello Che Chissà come Sarà soffrendo Stavolta però Sarà soffrendo Agnello A far vedere Il suo maestro L'overed C'è Ecco lo stun Ostrac Risponde Non vuole andare Così Fuori di scena Senza combattere Cranci E' inutile Dici Cranci E Bert Non ci sta Non c'è E stano C'è Non abbiamo Alberto Non abbiamo Queste Perversioni Lui Di Modificare Non abbiamo I crunch Non abbiamo I jump Back LK In tutta una parola Jump Back Dovered A combattere Forse era Mitiger Attenzione Ostrac Mette pure La bananetta Lì Pronta Per il setup 30 setup Da parte di Ostrac Grande round Veramente Madonna Ragazzi Grande Gioca Sporcizia Vera Questa E tra l'altro Era anche difficile Proprio da vedere Eh L'ha messo Un quarto Tora Prima Di farlo La banana Quindi A quel punto Si è già Dimenticato Che miseria Che miseria 3-2 Bel match Ci piacciono I main event Così Ci piacciono Dai March Fa il bravo E sei tu Il moderatore Ti devi Automoderare Ok Battaglia Di Firsoni Ok Salta All'ultimo Overed Latina Into Combo Qua Non cancella Un salto fuori dall'angolo Fanissimo Birdy Abigale Condividono Questo Crashone Bel Juggle Riconosce subito L'opportunità Per fare più Danno Bravo Attenzione No 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 Li salta via Do Ostrac Un po Salti Impanicati In questa situazione Trigger Veramente Sta facendo La differenza Qua penso Che fosse a meno Attenzione Che arriva la lattina Ma niente Non ci frega Della latta E E E E E Comunque Prepotente Eh davvero Prepotente Prepotente Ma è giusto Bisogna giocarlo così Per quel personaggio Eh in effetti Poi in un match Da prepotenza E Ancora Blocca Blocca il Dolphin Non era il Dolphin Non era il Dolphin Che era la EX Però Eh qua Qua Al Trapanish Eh Questi reset Li stanno costando parecchio Perché giustamente Su Onit Lui Lui ti è premuto alto Non si sa mai Uh qua che rischio Questa era una Ki-man Cioè Ki-man 277 Mi sembra che ho visto Una sweep Su Rialzo Qua Aiaiaiaia Round Cazzuto Per Ostrac Si sono io a commentare Ki-man Eh Sono all'esordio Anch'io Anche lui Ha un debutto Anche lui Ah A rotazione Debutterete tutti No Comunque è una cosa Simpatica Da fare Ah ci sta Per la community Dalla community Ancora qua RunnyX Per la comment Nel tempo Ho avuto un attimo Di silenzio Perché mi è venuto Con un crampo Alla gamba Soggiornati in palestra Vanno ammazzato E c'è i crampi D'appertutto Meglio il silenzio Che lamenti Sì 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 Mi hanno fatto versi strani Non volevo tediare Attenzione lì Un'interazione strana Command prontissima Fa la parte di Ostrac Che è Dolphin dive Certo match Difficile da Diciamo Quello scrembolino lì Carlo è stato bravo Con l'herto air Ma avrebbe potuto Pugni ancora peggio L'avrebbe ucciso Se fosse atterrato Sì ma Si basa a atterrare Come una norma Qualsiasi Ah sì Ci sono trovati in aria E dopo comunque Gli è andata bene Carlo ragazzi Vicinissimo Al match point Sì sono di Napoli All'hupsettone Vicino Questo potrebbe essere Questa potrebbe essere un Upsettone di quelli Da record Eh in effetto E potrebbe essere anche Un reverse 5 e 2 Molti punti da guadagnare No? Sì sì Allora sono in classifica Esattamente a Uno Due Tre Quattro 5 punti di distanza Quindi sono Sono Sobei 7 punti Più 2 di bonus Per il meno Sono 9 punti Per Carlo Nel caso Qua salta bravo Ostrac Che l'ha vista Perché molto ormai Eridone subito Mi chiede le sfide Per il futuro Se Ostrac perde Voglio sfidare Carlo Al prossimo giro Forse visto qualcosa Vede dei punti facili Sta studiando Vedremo se Carlo Dovesse accettare La sfida Sempre in caso Di vittoria Tensione Dash free Se esce con La cross Ah no Lo vuole sfidare adesso Non per punti Lo vuole sfidare in open lobby Un'altra command Vediamo se arriva anche la terza command Eh Attenzione Ostrac Che ora è alle corde Quasi con Carlo Il match point Non ci sta E chiude Anche lui di prepotenza Quindi andremo sul 4 a 3 Badabum Badabam Meccione ragazzi Stasera Perché Senza punti Eri da allora va bene Niente punti Se vuoi sfidare Entrate in lobby E prima o poi Vi beccate Tanto chi prima Arriva in lobby E batte me Perché sarò lì Io da solo Come un pirra Su Non ci vorrà molto E qua Ho preso tutto il tempo Della lattina Vediamo se Carlo Trova di nuovo Una chiave di lettura Cash counter Ancora Riconosce la crash E va di max damage Uh La lattina Casca sulla lattina Buona la piriversa Giustamente Non vuole avere a che fare Con niente Bravo qua Con la sweep A punire Sweep Ottima sweep Attenzione che è vicino Al danno infernale E lo vedete Eh lo vedete C'è Ah c'è Ostrac Ah è per vendicare Ostrac Che vuole sfidarlo Uh bella interruzione Dalla parte di Carlo Air to air Con il ginocchino Non può fare Neutral jump Ginocchino Funziona Uffo crash counter Ancora confermato Carlo Bravo qua C'è NTR Sullo Attenzione Troppo lontano Troppo lontano Troppo lontano Vediamo se lo uccide No Adesso un pixel Esce fuori da qua Brava buona Con la pirivesse Perché un solo maxi Eh qua la perry addirittura Chiude con stile Match point di nuovo per Carlo Questo vero match point Attenzione Con piene risorse Quindi Uh Sì qua qua mi aspetto super che volano Così Arraffica Attenzione Uh bravo qua Ah Checca la dash Pronto col buffer Eh bravo Jumpback Heavy kick Di Uh E la uccide No E il falso Ostrak 4 a 4 Pareggia con Seven golden letters Ragazzi Reverse the dream Il duone che dice Se Carlo Palazzo Si puoi capire Un altro giocatore Ah Infatti Si vedi che sono stati Eh però che lo sa In questo match Fino ad adesso Ho ragione No Come essere Anni ex Per uscire dall'angolo Con trigger Con l'armor E questo è un reverse the dream Perché era Carlo in the dream E poi E' pieno di colpi di scena Ragazzi Last game Vediamo se arriviamo anche al last round Come è successo negli ultimi due Game del set Carlo Attende Cerca di Prenderlo Di sorpresa Ma niente Ostrak Aspetta C'ha la pazienza Di alla banana Adesso la banana Uh No Chissà perché ha buffato la combo Qua avrà bestemmiato in otto lingue Carlo Per quella banana Attiva anche il trigger Command grab Uh Qua ha sbagliato la combo Ha sbagliato Che cazzo V trigger Armor contro armor Qua Sì sì Tante armor Non si capisce un tubo Conferma Vediamo Che conferma Una presa Ritenta Davissimo qua Davissimo risponde Fullhorn in v trigger Batte l'armor Ragazzi Ecco qua lo switch di v trigger A cosa sia il video Esempio pratico È vero Ostrak In match point Nonostante ci sia la banana Lì era incerto Carlo Probabilmente non ha completato Perché è Banana non banana Che succede Non lo so Command Qua Ostrak Si avvicina Oh Bella qua Bel salto Carlo Ah drop Importantissimo Però c'è ancora una chance In questo salto Vediamo col trigger Adesso Attivazione Bene qua Vediamo la combo Command Command Attenzione ragazzi Questi sono momenti importanti Carlo Ci crede Avremo Un round finale Reverse Reverse The dream Last game Last round Questi sei il main event Che ci piace vedere Al CRC Ragazzi Oh il damaron Dolphin WX Alla grandissima Qua viene punito Non sei Carlo Riesce a mantenere La calma Panish È qua la vista Ormai Ahiai Ancora un dolphin Tatuto Strac No non è un perfect Non è un perfect Ma è un perfect morale E vabbè comunque se l'hai giocata Carlo Super vicino al The Dream Stasera Bellissimo match Bellissimo match Veramente complimenti a entrambi Complimenti ad entrambi Bravi ragazzi Questo è lo show che vogliamo vedere al CRC Io ricreo la lobby Così si può partire con il consueto Openone Rissacchione Vi ricordo che dovete cercare il mio nome Fet1 FT1 8 giocatori Password3163 Venghino signori Il primo apre le danze Con moi Carlo Tanti drop Che potevano cambiare le source